Qualche giorno fa è stato il mio compleanno, così con alcuni amici abbiamo improvvisato una festa. Ora ti mostro com'è andata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E qui ci dobbiamo fermare. Porca miseria, le mie gomme lisce. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 ultimo modello oppure una vecchia enduro degli anni 80 ma andare in moto è bellissimo farlo con gli amici è fantastico quindi cosa aspettate prendete una moto e andate